salve a tutti amici videoludici e benvenuti a questa nuova live per il canale corso videoludica h corte videogiochi sul canale viola ancora una volta con le intime benvenuti ben ritrovati buongiorno a tutti ragazzi questa è una live mattiniera una live reaction barra analisi più che altro di la vita perché il trailer in questione già l'avevo visto all'uscita di sei giorni fa effettivamente quindi ci siamo è stato ufficializzato in realtà era già stato ufficializzato tempo addietro questo è un primo teaser ufficiale effettivamente per netflix del loro live action di one piece ragazzi ma quanto ci sarebbe da dire di la verità io l'ho già visto ok il mio pensiero in generale per questo live action è quello che hanno più o meno tutti dopo averlo visto e ve lo dico subito ve lo spoiler istantaneamente è una merda ok ragazzi con le dovute però attenzione cioè sono delle cosette che vorrei dire sui live action ragazzi prima magari ci guardiamo il trailer di nuovo lo analizziamo in alcune sue parti io non mi considero chissà quale gran sfegatato di one piece tuttavia mi sono recuperato col passare il tempo tutta la serie animata che è quella che conosco di più ovviamente qualche sprazzo del manga comunque sto continuando a leggerlo o l'ho letto effettivamente dovrei recuperarlo tutto per intero più che altro perché il manga ovviamente segue una sua logica che è comunque più o meno seguita a grandi linee è seguita effettivamente dal ma dall'anime per quanto nell'anime esistono un miliardo di filere esageratissime ragazzi anche molto stupida di la verità che sostanzialmente vanno un po a minare quella che effettivamente la lore effettiva la storia lo più logica del che dovrebbe seguire il manga per l'appunto perché hanno aggiunto delle cose quella dato e che non hanno proprio senso di esistere questo perché ovviamente come in tutti i prodotti che hanno successo ovviamente ovviamente l'anime è basato sul manga come al solito no ma se appunto loro finiscono un arco narrativo poi a quel momento in poi si parla di tantissimi anni fa ragazzi se da quel momento in poi però il mangaka non ha ancora fatto uscire il nuovo arco narrativo perché proprio i nuovi volumi non sono proprio arrivati perché li sta scrivendo ancora loro intanto qualcosa sopra ci devono lucrare non è che interrompono e poi aspettano come in realtà secondo me dovrebbero fa tutti lo comprendo motivo di marketing vedo che sta avendo successo io non posso lasciare a vuoto perché non saprei che cosa metterci allora dobbiamo battere il ferro perché sta continuando a piacere questo prodotto la gente lo vuole rivedere piuttosto che come qui da noi in italia tutto sommato rimettono lo stesso prodotto anche dai primi archi narrativi fin dall'inizio ci avete presente lo fanno tuttora su italia 1 ragazzi la mediaset in generale cosa fa prima di tutto qui da noi arrivano solo in versione si doppiata solo quei anime veramente famosi o comunque quelli più blasonati quelli più commerciali in un certo qual modo per questo per anni e tuttora stiamo marcia stanno mangiando su ai dragon ball e conan che il detective con gli occhiali e poi cos'altro il naruto quella roba lì c'è sempre solo quelli ovviamente ultimamente una tendenza magari che va un po diversificandosi ma comunque in generale quelli che effettivamente vengono trasmessi in tv sono più o meno sempre questi quelli proprio più famosi quelli che possono effettivamente permettere un guadagno facilissimo per l'appunto anche perché sennò il mondo dell'animazione giapponese è talmente esageratissima che ormai oggigiorno ci sono anche delle piattaforme online ufficiali come crunchyroll per esempio sto facendo pubblicità a casa così perché mi va visto che di recente ragazzi accidenti c'è una piattaforma che io seguivo da anni e che faceva anche in similcat molte produzioni anime che uscivano man mano nelle varie stagioni del corso dell'anno da quell'autunnale prima avrile estiva eccetera eccetera purtroppo qualche la settimana scorsa più o meno ha chiuso i battenti definitivamente sì lo so non era una piattaforma ovviamente ufficiale ragazzi sostanzialmente ma era anni che esisteva comunque questa piattaforma e io mi sentivo sicurissimo a guardarli lì e c'ero mi c'ero abituato tantissimo un po mi fa strano purtroppo queste cose succedono prima o poi l'hanno comunicato ufficialmente nel loro pagina facebook e quindi niente devo trovare qualcos'altro sto infatti pensando che non dico che faccio un abbonamento fisso per cui ogni volta lo rinnovo ma magari una volta ogni tanto un abbonamentino mensile a crunchyroll lo faccio almeno posso comunque seguire gli anime che stanno uscendo ora in questo periodo dal primo luglio in poi usciranno quelli della stagione estiva alcuni che vorrei effettivamente seguire e siccome lì li fanno subito dopo l'uscita in giappone quindi in similcat proprio ragazzi esce in giappone subito viene caricato nel loro canale voglio seguirli forse quindi in modo da supportare un appunto un prodotto ufficiale con applicazioni ufficiali che quindi non è pirateria lo posso fare anche perché voglio dare il supporto in questi casi anche perché crancio tra l'altro è una cosa che non molti altri fanno fanno anche doppiaggio italiano quindi per doppiano opere che altrimenti non sarebbero doppiate da nessun altro in italiano perché magari quelle non vengono non arrivano in tv per l'appunto qui da noi perché sono anche i prodotti non dico minori ma se ne sono così tanti che è impossibile ovviamente seguirli tutti non siamo il giappone ragazzi quei prodotti che importiamo solo alcuni vengono effettivamente doppiati in italiano e sono più che altro appunto quelli super blasonatissimi quelli che è sicuro che ci sarà un netto guadagno come dragon come dragon ball per l'appunto ora one piece ragazzi one piece è un'opera che io ce l'ho nel cuore da tanti anni io personalmente l'ho sempre preferita dragon ball a dir la verità dopo un certo momento in poi l'ho sempre preferita da piccolo è ovvio che ero fissato con dragon ball specialmente il primo e poi dragon ball z però da quando è uscito one piece sinceramente ho cominciato a apprezzarlo sempre di più sempre di più in realtà e sapere che ci sarà un live action mi ha dato sentimenti contrastanti da una parte penso a ok live action di one piece io lo apprezzo i ragazzi il live action non li apprezzo soprattutto quelli in realtà orientali quelli giapponesi io da piccolo li guardavo c'erano anche in quel caso doppiati in italiano che venivano trasmessi in tv sul canale mtv per l'appunto che era il canale all'epoca degli anni anni 90 primi 2000 adibito a quel genere di prodotti esteri come appunto anime e anche live action a dir la verità o film comunque provenienti dal paese del sollevante ma che comunque arrivano qui a noi con doppiaggio e non sottotitoli con doppiaggio per l'appunto tra questi ad esempio ve ne parlo dopo vai perché sennò già sto andando un po troppo in là questo è un discorso che voglio fare dopo aver rivisto il teaser trailer lo analizziamo un pochettino e poi dopo vi dico cosa ne penso effettivamente allora qui dovrebbe funzionare tutto vai questo è il teaser italiano proprio col doppiaggio fin da quando ero bambino il mare mi ha chiamato e già qui si notano un sacco di differenze voglio seguire il mio sogno diventerò il re dei pirati mi serve solo una ciurma fidata credo che insieme saremmo una bella squadra siamo diretti verso la rotta maggiore un tratto di oceano insidioso con isole più grandi e pirati più cattivi fa un po' d'attenzione quello era buggy percepisco una certa tensione in questa ciurma non siamo una ciurma non navighiamo insieme da molto però ci guardiamo le spalle a vicenda ok tutti i grandi guerrieri annunciano le mosse finali no non lo fanno in arrivo era il 31 agosto su netflix allora lo metto in loop così almeno scorrono le immagini eccolo qua loop vai lo lascio fare e quindi adesso torniamo alla schermata principale allora ragazzi l'abbiamo visto c'è da dire che l'atmosfera in generale in realtà mi sembra un po' diversa rispetto alla produzione anime o quella del manga in generale ci sono parecchie differenze ovviamente del resto io penso che sarebbe comunque impossibile ecco diciamo questo ragazzi i live action come stavo dicendo prima io ho un buon rapporto con i live action di produzione orientale a dir la verità io li ho seguiti parecchia quando ero più piccolo e sinceramente li ho sempre più o meno apprezzati all'epoca ovviamente ero ragazzino non è che potevo discendere parecchio da un prodotto di qualità da una smonnezza ovviamente crescendo questa cosa si capisce meglio a livello visivo ovvio ci sono delle cose che proprio non si possono vedere tuttavia al tempo stesso per me non è diciamo un punto a sfavore del prodotto anzi è una cosa a favore perché questi live action tutti i live action che ho guardato ragazzi se avevano più o meno questo livello di qualità visiva gli effetti visivi speciali fra virgolette se andate a vedere tutti i live action orientali si vede che sono finti non è che c'è qualcosa che dice oh è fatto benissimo da dio no 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 soprattutto perché tutti i live action sono molti ispirati appunto sono tutti ispirati a anime e manga per l'appunto in generale quei prodotti soprattutto sopra le righe come può essere per esempio un Jojo un Fullmetal Alchemist che fra parentesi io sono andato a vedere un pochettino la la storia di quello che hanno fatto gli attori che impersonano i vari personaggi che vedremo in questo primo arco narrativo io sinceramente non so sinceramente se questo avrà farà il botto e Netflix potrà fare altre stagioni successive quello che più o meno a grande linea dovremmo sapere che in pochi episodi perché non dovrebbero essere tantissimi i primi episodi di questa diciamo prima stagione dovrebbero coprire il primo arco narrativo che è praticamente dall'inizio appunto del manga dell'anime fino ad Arlong e io già tremo un pochettino per come faranno Arlong ragazzi perché sicuramente sarà non sarà un attore in carne e ossa sarà un titolo in CGI suppongo in realtà quasi ci spero perché per esempio se prendiamo l'esempio del Death Note di Netflix è come Dragon Ball Evolution una monnezza perché prende se un'opera solo nel titolo di base e ci mette due o tre personaggi che di nome sono quelli presenti nel prodotto originale ma stravolge completamente la storia senza senza senso perché veramente Death Note non è Light Yagami del Light Yagami che conosciamo noi dall'anime te volevi fare una cosa su Death Note e la fai in quella maniera del tipo ambientato intanto in tutt'altro posto con un Light che non è Light anche ma se lo chiami in quella maniera ti inventi i cavolate sull'origine del nome di Kira con quella cosa dei Celtici ma che cacchio mi vuol dire Ryuk ragazzi Ryuk maledizione mi pubbliciti tanto che c'è Defoe dietro il trucco tra virgolette di Ryuk ma tanto non si vede che è lui al massimo c'è la voce ma Ryuk non si comporta come dovrebbe far Ryuk quello non è Ryuk quello è un altro Shinigami che gli assomiglia vagamente d'aspetto e neanche poi così tanto tanto voleva fare a loro una versione puramente in CGI come hanno fatto nel live action di Death Note ma quello è orientale ragazzi avete presente il live action di Death Note che è suddiviso in tre film se non mi sbaglio che racimolano e anche lì con i dovuti cambiamenti anche abbastanza profondi del manga anime io preferisco di gran lunga guardarmi quello che ho apprezzato molto di più con quella CGI scadentissima in cui i Shinigami sono effettivamente quelli dell'anime perché semplicemente usando la CGI hanno rifatto Ryuk e compagnia bella con quell'aspetto proprio e si vede che ovviamente sono fintissimi che ci stono tantissimo nel mondo reale è come appunto la cosa del same live action alla Roger Rabbit in cui vediamo i cartoni insieme agli esseri umani per l'appunto te lo sai che quelli sono cartoni sono finti e si vedono che sono sopra una pellicola per intenderci no per quanto quella è tutta un'altra cosa è solo per fare l'esempio del cercare di render reale qualcosa che non lo è per intenderci cioè era veramente di gran lunga meglio fare una cosa in quella maniera piuttosto che creare quella ciofeca che hanno fatto ok già quello non si parte veramente avvantaggiati diciamo Netflix anche dalla sua o in generale perché in realtà i live action non sono prodotti di qualità eccelsa io dico solo che l'ho sempre apprezzati almeno quelli orientali perché comunque mantenevano fedeltà all'opera originale con i dovuti cambiamenti dovuti al fatto che non si può soprattutto una cosa come One Piece è impossibile fa la tutta fila per segno uguale identica ragazzi è una cosa improbabile e considerando il numero di episodi che a quanto pare faranno pochissimi mi sembra sei forse o un pochino di più ma comunque pochi devono andare a coprire il primo arco narrativo che comunque non è propriamente corto corto eh ragazzi c'è roba da vedere perché abbiamo prima rubber da solo nel mare e vedremo infatti alvina se non mi sbaglio si chiamava il primo pirata che affronta nella scena Gangnam mamma mia ragazzi la CGI cioè sembra proprio un ciocco di legno non fatto di gomma perché lui allunga il braccio con quella maniera fintissima si vede che proprio me non è proprio fatto bene dicono che in realtà alcune cose devono ancora sistemarle ma manca pochissimo all'uscita quindi non so di quanto riusciranno a sistemare in generale la CGI non è il top però sinceramente mi fa ridere e anzi preferisco perché mi ricordo appunto quei live action che seguivo a piccolo quindi per me quello è un punto a favore non a sfavore io non cerco la qualità o meglio qualità sì ma non cerco la realisticità in questi live action al contrario io voglio solo divertirmi e spanzarmi dalle risate magari poi ovviamente caratterialmente parlando io spero che almeno siano loro caratterialmente parlando e più o meno mi sembra di sì l'unico che mi convince di tutto il gruppo e molti dicono eh ma non ci assomigliano per niente ragazzi quell'anime non punta alla realisticità cioè One Piece è un prodotto anime con personaggi forme generale che non esistono nella realtà mai nella vita ok non c'è una base solida effettiva reale da cui partire è una cosa diversa ad esempio facendo esempio dei live action che ho seguito ho apprezzato quelle di GTO io rifaccio sempre come esempio GTO live action non è un capolavoro ma è quello che ha sdoganato i live action dorama cioè quei live action drami giapponesi ehm ambientati nelle scuole giapponesi per l'appunto con un professore che arriva eh ed è un professore comunque fuori dalle righe fuori dagli schemi ragazzi GTO ad esempio io da piccolo negli anni che erano nel 98 99 l'ho apprezzato tantissimo io seguì l'anime cioè sia l'anime che è il prodotto manga che appunto i live action di GTO nelle sue versioni episodi prima che comunque andava a modificare pesantemente ciò che era il prodotto originale ovviamente tuttavia aveva una sua coerenza perché ovviamente se te mi fai un anime live action che però è basato su personaggi sostanzialmente reali cioè siamo nel mondo reale nell'anime manga si avvengono cose fuori di testa come lui che si butta da un da un tetto per salvare una tizia e al massimo si rompe un braccio oppure si vede brutta scena ovviamente molto forte ovviamente di uno dei suoi ragazzi della sua classe che purtroppo si butta da un dal tetto della scuola ma lui riesce correndo in maniera esageratissima prendola al volo pum ed evitare che si facesse che si sfracellasse a terra cadendo tra l'altro sopra il tettuccio della della macchina del vicepreside che ha una delle che hanno lui e Onizuka ragazzi il professore in questione Onizuka e il vicepreside hanno delle gag comiche incredibili sono il mio gruppo il mio il duo comico all'interno di gto preferito veramente io mi scompiscio sempre dalle esate quando vedo lui che ogni volta deve combattere contro Onizuka perché gli combina dei tutti di più e questa cosa un minimo è fatta vedere anche nella versione live action per l'appunto però in maniera più o meno più realistica non vedremo mai Onizuka che si butta giù da qualche parte per salvare una persona o anche il fatto che lui si metta lì perché effettivamente c'è la scena in cui lui sale sulla capote cioè sale sul sul tettuccio della nuova macchina del vicepreside e prende al volo il tizio che però si vede palesemente tra l'altro che è un pupazzo in quella scena cambia scena lui tipo svenuto ma vivo invece nella scena dell'anime lui sta una benissimo cioè ha sfondato il tetto che teoricamente dovrebbe essere anche lui sfraccellato a terra perché se prendi uno che ti casca addosso non te la cavi neanche te ragazzi in realtà è una cosa molto difficile da fare soprattutto se cade da tantissimi metri d'altezza ovviamente è impossibile nella realtà una cosa del genere e se succede non te la cavi a buon mercato invece nella live action effettivamente l'hanno resa più realistica effettivamente anche lui è svenuto e si è fatto un pochettino male diciamo ma in generale quelli funzionano quei dorami come vengono definiti che hanno avuto un boom da quel momento in poi veramente per tutti i primi anni del 2000 il primo decennio e naturalmente negli anni 90 hanno avuto un boom incredibile grazie a gto che l'ha sdoganato ma quei dorami lì però appunto quei live action ambientati in un contesto scolastico o comunque sentimentale perché ce ne sono parecchi di romcom come vengono definiti che siano sia coreani o giapponesi che riproducono le versioni live action di un manga di una webtoon o di un manga di un anime quello che è funzionano perché sono ambientati in un contesto realistico per l'appunto quelli possono funzionare al di là dell'aspetto dei personaggi o di quando i personaggi in sé fanno le faccette comiche avete presente no che nei manga anime lo scrittore lo scrittore semplicemente si mette a disegnare come si sentono i personaggi quando ad esempio si sentono a terra e si vedono che intorno a lui si forma un alone un alone nero violaceo una cosa del genere oppure quando è incavolato che si forma che si vede che diventa rosso in viso dalla rabbia gli occhi cambiano diventano fiammeggianti una cosa del genere quella è una cosa che può funzionare nell'anime e nel manga quando lo riproduce una cosa simile nel live action trovi altre scappatoie oppure comunque provi a fare le faccette però appunto gli attori provano a fare le faccette comiche ma ovviamente sono ridicoli però mi fanno sempre sorridere a me sinceramente è una cosa che provano a fare ed è divertente le versioni però americane dell'action queste cose non le fanno mai e anzi tendenzialmente se visto in molte produzioni in primis Dragon Ball Evolution che non è Dragon Ball ma minimamente e Death Note è tutta completamente cambiata cercano addirittura di farlo più serioso Dragon Ball Evolution in particolarmente ragazzi cioè è la monnezza assoluta di un film live action tratto da un famoso manga anime perché secondo me comunque in generale una cosa comunque anche se ci provasse Netflix perché secondo me quello Dragon Ball proprio in sé non potrebbe funzionare per me non può funzionare per me di Dragon Ball o simili in realtà anche One Piece è simile a Dragon in un certo qual modo non dovrebbero proprio farli non ci dovrebbero provare perché non hanno una base realistica da cui partire cioè vedere dei tizi che si menano che si trasformano con quei capelli assurdi quella corporatura che non esiste quasi nella realtà non lo puoi fare cioè che cavolo puoi vedere gente attori che fanno la kamehameha come se noi ragazzi fan made da casa facciamo le onda energetica cioè è ridicolo da vedere troppo ridicolo cioè quello non ti fa ridere perché dici è simpatico ti fa non ti fa neanche sbellicare anzi provi vergogna secondo me in quei casi ok ora parlando invece di One Piece già siamo comunque sopra le righe di parecchio quindi ne vedremo di scene al limite del ridicolo sicuramente come ho detto a livello puramente estetico ci possiamo anche stare fino a certi limiti la CGI è quella che è ma per me appunto non è affatto un un difetto ma un pregio la realizzazione dell'aspetto visivo dei personaggi meh insomma ci può stare ci può stare comunque fino a un certo punto vediamo tutti c'è Sanji che ok si non ha i cosi a ricciolo la battuta classica che fanno Sanji e Zoro è cosa ehi testa d'alga e lui c'ha la testa i capelli color verdi e ci sta lui non c'ha le sopracciglia rigirate ma ragazzi quello allora sarebbe risultato un cosplay cioè te mi fai o mi fai una cosa che sembra proprio tirata fuori per essere proprio uno scala uno a uno come i personaggi dell'anime ma è ridicolo che non si può fare veramente sarebbe una cosa ridicolissima non sono cosplayer questi questi sono attori che devono recitare ok se te vuoi farmi il cosplay del personaggio a me la dito è una cosa ma è un contesto diverso questo non è fare il cosplayer questo è far l'attore ok in un contesto un po' ridicolo ma comunque è far l'attore ed è una cosa diversa quindi personalmente l'aspetto che gli hanno dato ci può stare perché è comunque una via di mezzo tra il prodotto originale è un minimo di tentativo di realtà ok è un minimo di tentativo in realtà poi il fatto che sono tutti appartenenti a etnie diverse alla grande in realtà ci sta ci sta ragazzi anche perché diciamoci la verità se fosse stato il live action giapponese sarebbero stati tutti asiatici ok sarebbero stati tutti asiatici per forza di cose che avrebbero preso tutti attori da loro appunto qui invece hanno usato attori di etnie diverse per l'appunto abbiamo l'unico ecco e qui ritorno a una cosa che stavo per dirvi prima ecco lui lui è l'unico che mi convince al 100% abbiamo comunque attori che più o meno vengono non tanto dall'ambito film quanto serie tv effettivamente di cui però in realtà io penso che l'unico effettivamente famoso in quegli ambiti e che comunque abbia alle spalle una certa esperienza nel settore è proprio l'attore che in persona ha Zoro che è l'unico appunto giapponese tra l'altro ed è giusto che sia così eh ragazzi cioè Zoro del gruppo è l'unico che secondo me ci sta bene che sia giapponese proprio per per un sacco di motivi anche chi ha letto il manga ho scoperto il retroscena sull'origine di Zoro una cosa del genere alla fine ci sta questa cosa ovviamente Rubber secondo me ci sta come versione live action di quello che vediamo Rubber ho usato il nome italiano ragazzi Luffy Ruffy chiamatelo meglio così perché è molto meglio lui ci sta anche Nami sinceramente mi convince così come Asop in realtà e non sono uno di quelle che caga il cazzo dicendo ma Asop non ha il nasone ragazzi non esiste nessun essere umano con quel nasone ok Asop è tipo la sottotrama comica del gruppetto e va bene ci può stare che lo faranno un pochino codardino ma che comunque sa tirà fuori il coraggio nei momenti opportuni per il resto però sono così e basta non è che possiamo stare a cacare il cazzo per ogni singola cacchiatella ecco questa scenetta invece hanno si vede qui si nota particolarmente perché questo è nel primo arco narrativo quando arrivano alla prima città in cui lui incontra Zoro per appunto in cima si vede che la fortezza della marina è finta mentre tutto il resto hanno usato un paese realistico ma comunque dai perché comunque ci assomiglia a quello che vediamo nell'anime nel manga nel contesto ci assomiglia Buggy altro attore che comunque è abbastanza conosciuto effettivamente sempre per le serie tv più che altro per appunto ragazzi qui parliamo tutti di attori comunque che hanno sono conosciuti nell'ambito delle serie piuttosto che dei film effettivi ma dicevo l'unico che effettivamente ha un passato riguardante questi live action proprio ispirati agli anime nell'ambito quindi live action di serie tv e nell'ambito giapponese è solo l'attore che in persona ha Zoro è lui l'unico che effettivamente ha questo genere di background nel suo lavoro e infatti l'abbiamo visto in altri prodotti come ad esempio Jojo live action full metal alchemist live action quindi capirete che secondo me lui è l'unico che forse forse è convincente al 100% nei panni di Zoro tra l'altro le coreografie non sono malaccio siccome è uno spadaccino base realistica certo usa tre spade e va bene però spadaccino avete visto la coreografia di lui quando combatte contro probabilmente quello è uno degli scagnozzi di buggy quando vediamo infatti nell'anime manga quando loro affrontano buggy e clown sostanzialmente appunto la sua ciurma è basata su un circo quindi tutti i suoi tutti i suoi scagnozzi sono tipo mezzi clown mezzi cose così no l'arte circense ci sta che lui affronti quel tizio a mo' di spade in quella maniera con quella coreografia è l'unico meno effettivamente ridicolo da vedere io mi immagino adesso vedere sanji quando combatterà invece usando i calci spero che l'attore sia bravo ad accalci perché voglio proprio vedere come combatte lui e poi ovviamente rubber io dico rubber vabbè mi viene più facile luffi ruffi ragazzi che vabbè si allunga l'abbiamo vista la scena con alvina gang pistol che fa così ovviamente nell'anime manga ma nella realtà è abbastanza ridicolino ok tuttavia tuttavia ragazzi non mi sento di bocciarlo come ho detto io non sto dicendo questo perché penso che sarà una vera merda anche se l'ho detto all'inizio sì cioè nel contesto uno dice è un progetto che non so quanto vedrà diciamo un futuro sinceramente parlando tuttavia tuttavia io che sono fan dei live action un pochettino un pochettino mi auguro veramente che abbia successo di certo io lo guarderò io di certo lo guarderò perché sono troppo curioso e voglio vedere effettivamente cosa hanno combinato ragazzi veramente dai allora poi appunto un primo arco narrativo dovrebbe coprire fino al momento di Arlong perché si vede la scena in cui loro appunto giurano dico ragazzi ognuno di noi adesso farà un giuramento prima di arrivare nel grande blu io voglio diventare dei pirati io disegnerò la cartina del mondo io troverò il grande mare l'unico grande mare com'è che cavolo si chiamava quello che vuole cercare Sanji no il cuore dei mari non mi ricordo come si chiama Zoro che vuole diventare il più grande spadaccino Asop che vuole diventare un pirata famoso e coraggioso come suo padre eccetera eccetera no ma quella scena è post eventi di Arlong se non mi sbaglio se non mi ricordo male si è post eventi di Arlong per l'appunto quindi noi dovremmo più o meno sapere che il primo arco narrativo finisce con loro che arrivano al grande blu sostanzialmente e io però personalmente non vedo l'ora di vederlo veramente dai analizzando poi nel dettaglio comunque questo allora intanto possiamo vedere certi cambiamenti ci sono intanto la Goin Merry a quanto pare è cambiata la storia ricordiamoci ragazzi che nel manga anime la Goin Merry viene fornita dal servitore di non mi ricordo come si chiama ricordate l'isola in cui trovano Asop per l'appunto dopo gli eventi di quell'arco narrativo in cui anche Asop entra fa parte della nave gli viene fornita questa caravella che è appunto la Goin Merry qui invece sembra che la Goin Merry sia una nave costruita all'interno di questo porto che penso sia sostanzialmente la cittadina in cui abita Luffy sostanzialmente non so dire se però questa nave diventerà quasi subito sua o ci vorrà un po' perché diventi la loro nave effettivamente qui possiamo vedere il Baratia che è appunto la nave ristorante in cui incontrerà Sanji questo appunto è il primo arco narrativo in cui andrà poi a trovare Zoro appunto che è stato catturato dalla Marina qui possiamo vedere la gigantografia del probabilmente hanno deciso di mettere la gigantografia piuttosto che la statua perché sarebbe stata troppo ridicola quella statua anche se in realtà ci sarebbe stato bene se già c'era la statua senza la scenetta comica in cui lui la distrugge questo è il capitano Morgan sostanzialmente il primo nemico che affrontano insieme ecco qua qui la scena coreografica del combattimento di spade ci sta sinceramente questo è il primo mostro marino ed ecco qua vedete ragazzi questo tizio non è ovviamente rubber questo è Shank perché ha i capelli rossi qui sta una camicia bianca capelli rossi e si ha ancora qui il cappello di paglia mi sa che questa è la scena in cui lui si ritroverà senza braccio sempre ammesso che quella scena la facciano ma il contesto è quello molto probabilmente qui si è è andato a salvare la ruffi qui è la scena in cui ruffi da piccolo viene salvato da Shank che affronta la bestia marina per l'appunto dell'anime manga perderà il braccio qui non lo so se succederà una cosa del genere ma questo è Shank perché ha i capelli rossi per l'appunto qui è Alvina ecco questo è uno di quelle cose ridicole ragazzi perché nel manga anime ci sta che ci siano pirati un tantinello sopra le righe colorati perché è un mondo colorato quello di Oda ragazzi è un mondo estremamente colorato molto diversificato ci sono diversi mondi e ambienti all'interno di questa del mondo di One Piece per l'appunto ma vederni la nave a sinistra va pure bene perché è realistica la nave a destra non ha senso di esistere è fintissima e ridicola in maniera incredibile ora un però come ho detto comunque è quella è quella la nave l'hanno fatta esattamente come compare nell'anime quindi ci sta ci sta comunque dai bug il clown ho sentimenti contrastanti per bug il clown perché non so se ci sarebbe stato un altro modo per rappresentarlo secondo me meglio di così non potevano fare certo sembra quasi un po' hit un po' il joker sinceramente parlando ma secondo me ci può stare comunque dai allora questa qui si vede che è fintissima ragazzi questa CGI qui è proprio finta in una maniera incredibile questa comunque per chi non l'avesse notato ragazzi questo lo capite solo se avete letto il manga o visto l'anime questa è la nave della marina del vice ammiraglio garp perché vedete la sua non so se si chiama polena comunque la parte frontale della nave credo che si chiami polena se non mi sbaglio in gergo marina è un cane vedete è un cane che tiene un osso in bocca questo è il simbolo di garp quindi questa è infatti quasi nota probabilmente si vede pochissimo per un nano istante ma questo qua in cima vedete sulla parte in alto a destra che è sfocatissimo vicino alla testa da cane questo qui sicuramente è il nonno di luffy questo è garp sicuro il vice ammiraglio e qui probabilmente è la scena in cui loro si affrontano perché c'è in realtà molto più avanzato in realtà nel manga anime è una scena molto più avanzata ma qui l'hanno voluta mettere sempre ammesso che abbiano fatto il contesto che Luffy sia effettivamente il nipote di un vice ammiraglio il problema è che se non ci saranno stagioni successive al primo arco narrativo queste cose non le sapremo mai effettivamente qui è la scena del baratire in cui Sanji salva Luffy combattimenti veramente ridicoli mi immagino già quasi quasi mi aspetto le scene alla Batman e Robin ragazzi quelle degli anni 60 50 quello che è in cui si sente e si vede l'onomatopea che compare se vuoi proprio farlo in stile cartone no e qui c'è la scena per l'appunto in cui loro dicono pronti a partire sostanzialmente e qui la scena con il Gangam per l'appunto che però qui per esempio è ambientato di notti in una nave che sembra molto piccola quindi non è la nave di Alvina per l'appunto ma qui tra l'altro c'è pure Kobe ragazzi il ragazzo che sogna di diventare membro della marina per l'appunto e che diventerà comunque amico di Rubber aiera e mi viene da dir Rubber ragazzi non è che mi suoni meglio ma è perché ci sono più abituato a livello punto di suono è Luffy Ruffy vabbè che posso dire ragazzi io personalmente lo attendo alla fine sono veramente curioso di vedere l'opera uscirà ufficialmente il 31 agosto stiamo a vedere personalmente io vi chiedo questo ragazzi supportatelo Netflix fa un sacco di prodotti magari sono anche delle merde ok però siamo noi spettatori che è inutile lamentarci ma cacchio hanno cancellato già questa subito ma è colpa nostra che non seguiamo l'opera ragazzi loro producono producono e producono al di là della qualità che ci può stare ma la qualità può anche migliorare se vedono che il prodotto funziona magari decidono di investirci qualcosina in più la prossima volta nella stagione successiva e migliorano il tutto capite cioè loro di base devono fornirci roba che effettivamente attiri il pubblico e va bene ma noi siamo quelli che poi dobbiamo seguirlo quel prodotto perché altrimenti è ovvio che tutto finisce nell'arco di una stagione e basta uno o due poi vedono che il prodotto non ha affatto i super soldoni perché Netflix punta solo a quello e di conseguenza non avremo mai le stagioni complete come effettivamente magari qualcuno sogna io personalmente sento che questo prodotto sia superiore a quello di Death Note per intenderci perché già c'è una certa fedeltà maggiore rispetto a quel prodotto lì tra l'altro ho sentito che a quanto pare nella fase di produzione anche i Ciro Oda abbia in qualche modo partecipato ok questo vuol dire poco o nulla ragazzi solo perché il creatore dell'opera originale partecipa magari attivamente a un prodotto non è che vuol dire che possa funzionare al 100% certo ti dà una marcina in più perché sai che c'è il suo creatore originale starà attento che non facciano proprio delle grandissime cavolate ecco io per esempio su Death Note io non so se il creatore di Death Note abbia partecipato alla produzione del Netflix però ovviamente avrà concesso i diritti di produzione perché è sua l'opera o comunque della casa di produzione di Death Note avranno voce in capitolo possibile che non abbiano seguito per bene la fase di produzione dicendo ma che cosa caccia avete fatto è molto meglio i live action che hanno creato qualche tempo dietro pure il film ok cioè veramente il film è quello orientale ridicolo per alcuni personaggi ovviamente perché sono sempre sopra le righe mai quanto prodotti come One Piece Dragon Ball ma comunque su una base realistica quello funzionava di più rispetto a quello che hanno creato loro quindi la fiducia non è che ci sia proprio al 100% tuttavia tuttavia secondo me può essere un prodotto che può intrattenere divertire e io sinceramente non vedo l'ora di vederlo bene detto questo ragazzi ditemi la vostra voi cosa ne pensate del live action di One Piece lo state attendendo secondo voi potrebbe funzionare oppure gridate allo scandalo di nuovo perché secondo voi è proprio una sciofecca da buttare vede il tutto ripeto i live action non sono capolavori ovviamente tuttavia tuttavia per certi tipi di prodotti secondo me funzionano sono comunque divertenti e da intrattenimento quindi io ho una possibilità a live action di One Piece che sicuramente già vista non sarà un successone temo ma secondo me potrebbe avere un seguito se noi lo supportiamo detto questo ragazzi io vi ringrazio come al solito vi chiedo lasciare un buon pollice in su se vi è piaciuto e volete vederne altri iscrivetevi sia al nostro canale youtube che al nostro canale twitch in trambi casi vi chiedo di attivare la campanella degli avvisi prima ne è sempre aggiornati voglio rammentarvi che le nostre live possono essere in qualunque giorno della settimana per sapere quando andate a visionare la sezione programmazione informazioni di twitch dove trovate la lista quotidianamente aggiornata per quanto riguarda orario dati e argomento delle live vi ricordo poi che le nostre live da twitch vengono successivamente ricaricate sul nostro canale youtube corso videoludica dove trovate sempre un video di anteprima ogni martedì giovedì e sabato pomeriggio ancora una volta vi ringrazio vi saluto ci vediamo nei prossimi video e prossime live ciao a tutti ciao a tutti